un buon pomeriggio un buon pomeriggio a tutti gli amici e le amiche della nostra ora solare benvenuti bentornati bentrovati quando quando riusciamo a parlare d'amore ma proprio come se giocassimo una partita a tennis e centrassimo subito col primo colpo il punto siamo tanto contenti siamo animi romantici assolutamente sì siamo innamorati delle persone che si amano e che con il loro amore riescono a costruire tanto assolutamente sì e allora ho sempre questa idea di schierire la voce mi piace tanto fare il bravo il bravo presentatore signore e signori anna ferruzzo e massimo vertmuller è come state comodi perché ci siamo già dati tutti i bacioni prima ma assolutamente no maestro non dica non dica così però è vero quando si riesce a parlare di persone belle e innamorate è un piacere è un po lo spirito della nostra ora solare insomma il senso è questo e quando per nostra fortuna perché prima vi abbiamo ammirato sempre separatamente continuate a fare il vostro lavoro anche ovviamente ognuno per conto proprio ma quando è scattata faccia proprio l'impicciona il minuto dell'impicciona quando è scattata la scintilla d'amore vorrei che ne parlasse lui perché non lo ricorda quindi mi diverte ma meravigliosa questa donna no applausi Anna che stile che stile complimenti prego non si fa così non si fa così come ero vestita no perché lei lo sa che io mi avvio in questa televisione bisogna stare attenti a come si va però questo non è grave dirlo a un inesorabile lento ma sicuro rincoglionimento per cui per cui per cui pardon pardon citazione poetica va bene eh va bene la facciamo passare per cui succede che non è che io sia precisissimo non te lo sei mai ricordato va beh comunque ecco attenzione al eravamo in una puntata aspetta un attimo mi metto a teatro e vi guardo ah che bello fate comodo eh fate eravamo in una puntata della squadra sì quella di Rai 3 Rai 3 e lei è arrivata essendo secondo il mio avviso una magnifica attrice troppo buona quando è arrivata io e Massimo Bonetti ci siamo guardati e abbiamo detto Massimo è bravissimo di fatti se mi permetti nacque prima la stima perché avevo veramente una grande stima veramente sorprendente fu piano piano in cinemetto una cosa capito? una cosa nacque piano piano l'amore con i dovuti assestamenti attenzione tanti e lunghi quasi un anno e mezzo di assestamenti capito? non è facile ma questo è il bello cioè qui vi vediamo proprio qui diciamo ci eravamo lasciati andare i sentimenti e quindi avevamo già deciso che volevamo stare insieme ma per un anno e mezzo anche perché ci siamo incontrati che non eravamo più giovanissimi non che fossimo vecchi però è quell'età della saggezza in cui anche l'indipendenza è una cosa bella certo e quindi essersi incontrati ci è voluto un po' di tempo per riuscire a lasciarsi andare perché poi la verità è che condividere tutto con una persona vuol dire affidarsi affidare se stessi ed è quella la cosa più difficile l'innamoramento è fugace passa è un attimo ma la decisione invece è una ponderata allora bellissima attrice perché ha detto bene Massimo Vermuller a cui mi dedico tra un attimo l'abbiamo ammirata eccetera sì è evidente poi ci si mettono anche papà e mamma ad averla fatta bella e quindi questo aggiunge sarà contenta mia mamma ma insomma è sotto gli occhi di tutti ma mia mamma è sempre scontenta quando mi vede in televisione ma come ti hanno pettinato ma come ti hanno truccato e tu dici mamma io di professione faccio l'attrice attenzione attenzione ci avranno messo un anno e mezzo a capire ad avvicinarsi a fare insomma un minimo però guardate che belli il giorno del matrimonio c'è un miele abbiamo miele e non melassa che passa per tutto lo studio perché poi diventa no diventa diventa proprio una festa d'amore è giusto Massimo? sì sì io noi questo fatto è un matrimonio maturo perché è avvenuto dopo già 14 anni di amore questo matrimonio qua a settembre scorso settembre scorso siete sposini siete quasi in viaggio che mi hanno dovuto alzare in due dalla sedia i sposini tutti i dolori il corpo della strega però insomma si è fatto questo matrimonio in mezzo tra l'altro ecco questo lo potrei dire per me è stato il coronamento allora una delle più belle giornate della mia vita non lo dico perché c'era il pericolo del maltempo è andato tutto perfettamente tutto come doveva che meraviglia e consiglierei a tutti una giornata in cui tu come ti giri c'è uno che ami cioè bisognerebbe ogni tanto fare sai quelle quei ritrovi no in cui tutti giri qui e c'è il compagno tuo di infanzia di qua c'è quello di scuola quell'altro cioè era tutta una giornata indimenticabile che ha coronato vero sì funzionava tutto è stato bellissimo divertente e bellissimo divertente è che ci sta tutto e attenzione anche questo non poteva che essere così ecco e qui viene la domanda attenzione poi tra un attimo ci dedichiamo anche a tutto ciò che è la loro carriera soprattutto c'è un appuntamento il 7 marzo al teatro Vittoria di Roma quartiere Testaccio il teatro degli attori e dei tecnici così viene definito ma di questo la mettiamo come ciregina sulla torta arriviamo proprio tra un po' a raccontare tutto ciò ecco vivere accanto ad un uomo così com'è domanda di quelle che non dovresti io non risponderei della serie ma fatti i fatti tuoi però per favore permesso ma un uomo così come? un uomo così un uomo così allievo non so un uomo così allievo di Gigi Proietti un uomo così brillante un uomo così così capace di far ridere anche sollevando un sopracciglio e dico far ridere perché riuscire a far ridere sono davanti a due signori attori è sempre un po' più complicato è complicato però ha trovato una degna compagna diciamo che la follia sua si è diciamo è stata giustamente completata dalla mia poi la verità è che io faccio fatica ad ammetterlo quando c'è lui ma io se penso la mia vita senza adesso non riesco a pensarla avrebbe un vuoto incolmabile ma che belle cose che state dicendo come non è vero guardateli perché non gliel'ho mai detto perché io sono molto pudica nelle mie cose lei è bravissima a ridurre ma come complimenti o carizze ho capito coccole capito non è ma poi siamo complementari anche a livello di segno parliamo anche di cose leggere bisogna esserlo io sono acquario e lui è leone io spegno il fuoco lui si alimenta dell'aria che il mio segno porta sono pesciolini d'acqua dolce nel senso questi due giovanotti a quattro zampe che vediamo tra le altre vostre caratteristiche nel totale pieno rispetto delle cose umane voi aggiungete anche un grande amore per gli animali che poi è la lezione di San Francesco d'Assisi che cosa di più bello ma guarda San Francesco d'Assisi lo potremmo considerare il più grande animalista di sempre perché lui amava il creato ma non ha scherzato poi perché lui addirittura li considerava fratelli quindi ha fatto un passo in più io mi permetto di dire proprio qua in questa televisione forse qualcuno ci ascolta da qualche stanza che l'animale che conserva questa sua purezza sempre quando è vecchio fino alla morte purezza di vita di non sa cos'è il male non ha la coscienza del male forse più vicino di Dio di noi questo aprirebbe un varco noi la lasciamo così la appoggiamo sulla seta ma merita senza altro tutta l'attenzione e il rispetto che adesso non tutto il mondo non tutto quello che ci circonda gli dà questo può sicuramente anche perché non rispettare chi rimane sempre con il cuore bambino perché di questo in fondo parliamo perché si affidano a te completamente vuol dire poi non sapere rispettare il resto del mondo il resto dell'umanità su questa filosofia con la quale ci stiamo spingendo non oltre ma anzi nei luoghi migliori sapete cosa c'è? lasciamo la finestra aperta i giovani sposini che ho qui davanti a me si racconteranno subito dopo una breve pausa pubblicitaria nella loro carriera lunga bella ma se sapeste quanto ancora il bello è tutto di là deve ancora arrivare per questi due deve ancora arrivare il grande bellissimo perché se lo meritano secondo me sono da Oscar tutti e due l'ho detto pubblicitaria Bernuller Ferruzzo o insomma i signori Bernuller perché poi ormai sì così deve essere Anna il momento in cui si decide che si lascerà a casa sia giovani perché la cosa più bella che si possa fare è cominciare a recitare perché il teatro ti attira perché voi la vostra storia è una storia che parte come i grandi attori di una volta io penso ad Anna Magnani penso a Marcello Mastroianni che sono senza citare Vittorio Gas ma anche tutti passavano prima per il teatro tanta gavetta per quanto mi riguarda tantissima il mio lavoro è stata una conquista perché io non vengo da una famiglia di attori ne appartengo ad una dinastia per cui è tutto più difficile io vengo da una città difficile e lì ho scoperto questa passione per il teatro grazie alla mia insegnante di italiano è una cosa della quale vado fiera lei non l'ha mai saputo ma la mia insegnante di italiano che mi aveva eletta lettrice ufficiale della classe diceva che bella voce che hai Anna dovresti andare a teatro e mi ha regalato lei aveva questa voce molto flautata una donna intelligente veramente illuminata e mi ha regalato una tessera teatrale con la quale che mi consentiva di andare un mercoledì pomeriggio a teatro e io a 16 anni andai per la prima volta a vedere Anna Proclemer era se non mi sbaglio un testo di Pirandello rimasi affascinata è una cosa meravigliosa non sapevo come avrei potuto fare quali fossero le scuole non sapevo come ma pensai io non so come non so quando ma quello sarà il mio lavoro e poi con tanta fatica tanta difficoltà perché comunque io ho dovuto conciliare per tanto tempo attività teatrale ad altri lavori che poi stabilmente ho trovato una compagnia che mi ha permesso di completare la mia formazione di lavorare stabilmente di vivere solo di quello e poi il cinema è arrivato per caso e lì la mia carriera ha preso una svolta diversa mi reputo una donna molto fortunata guarda io dico sempre massimo a parte ovviamente che diciamo si scatenano qua stiamo avendo in regalo un momento proprio perfetto e sì fortunata tu fortunati noi perché poi io cito soltanto e cito soltanto alcuni dal commissario Montalbano l'altro capo del filo Fabrizio De Andrè Principe Libero in Cantesimo 9 che Dio ci aiuti braccialetti rossi allora quando poi un'attrice diventa tale per sua fortuna fa la fortuna del pubblico che la vada a applaudire perché tu sai fare quello e lo sai dire nel modo in cui io non lo so dire ma l'avrei voluto dire così che carino sembra uno scioglilingua però è questo l'attore io penso che il nostro il nostro mestiere sia realmente una cura per l'anima ed è un privilegio per chi lo fa e per chi lo fruisce e lo è se riesce ad ottenere il risultato siamo tutti felici e il risultato fatalmente arriva solo quando si fatica tanto e si lima ogni angolo delle proprie caratteristiche allora i miei genitori non erano non erano gente di teatro gente di cinema e Massimo Wettmuller che abbia saputo dimostrare che il suo cognome a quel punto fosse portato in auge da due invece che da una sola è un dato di fatto ma che forse ha dovuto faticare ancora di più per dimostrare tutto questo sembra assurdo ma è stata una zavorra per citare veramente un peso in più uno zaino pieno di sassi d'oro eh però sassi hai perfettamente ragione stai sotto un esame particolare continuamente infatti un po' ancora devo dire pensa che ancora un po' lo pago sto cognome franca devo essere sì qui bisogna essere sinceri non si può io ho fatto un percorso contrario a quello suo ho avuto la fortuna per carità di imparare quanto è importante la cura la preparazione la competenza e anche di respirare cinema respirando quell'aria capisci poi nel modo migliore perché Lina Lina è proprio ma vedi quei grandi registi non lo sono stati casualmente cioè tu capivi prima di tutto e facevano parte d'accordo di un ambiente un mondo diverso che investiva sul cinema anche sulla cultura in genere in maniera diversa ma loro però un particolare lo curavano maniacalmente Lina Lina ha saputo sempre tutti i mestieri che formavano un set sapeva cosa chiedere al direttore delle luci anche il nome del microfono tecnico che metteva il microfonista questo per dirti che questo tipo di mentalità mettiamola così io ho avuto la fortuna di nascere non con Lina perché la mia famiglia era totalmente diversa papà era un impiegato dell'Inps non c'entra niente ma vicino a Lina quindi questa cosa gliela devo d'accordo tutto il resto è quella roba che dicevi tu che ha fatto più handicap più fatica perché devi sempre dimostrare qualcosa un po' dipende perché uno si porta dietro anche ciò che quel cognome ha costruito nel bene nel male cioè l'eredità è totale per cui non posso parlare per uno che ha un altro cognome io parlo per me per me è stata un po' più faticosa però noi guardate io cito soltanto la zavorra per citarla così ma per dire che vedere questo ragazzo che ti faceva ridere molte volte ti risolveva la serata perché quella risata serviva parlo per persone che conoscevo che avevo accanto che avevo in casa serviva a risollevare l'anima ecco quello vuol dire che si è centrato nel segno e non cito tutto il resto di tutte le altre opere e lavori perché faremo notte anzi famo notte invece dobbiamo fare pomeriggio perché siamo qui apposta dal 7 al 17 marzo prossimi insomma un weekend a Roma si può sempre fare talmente bella questa città nel caso voi non foste di Roma Teatro Vittoria quindi siamo in piazza vicino a Piazza del Testaccio insomma Roma 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 la gente di Cerami e questa è un'idea meravigliosa omaggio dedicato proprio al grande Vincenzo Cerami su musiche di Nicola Piovani con la regia di Norma Martelli voi due riporterete in vita quei personaggi piccoli immensi che ha scritto Cerami Sì è stata sì sì applauso applauso ci sta ci sta è stata una sfida è stata una sfida quella di in qualche modo di far rivivere testi e racconti che non erano destinati ad una fruizione teatrale quindi c'era c'era questo il rischio era proprio quello quello di rendere teatrale ciò che era nato per essere un racconto infatti sono brevi racconti tratti dai racconti di Vincenzo Cerami che noi abbiamo messo in scena con Norma con la collaborazione di Aisha Cerami che ne ha curata la riduzione e le musiche ovviamente di Nicola Cerami Piovani e parliamo di una coppia da Oscar è tanto per dire noi siamo molto legati a questo spettacolo lo abbiamo cesellato lo stiamo ancora adesso livellando e non vediamo l'ora di proporlo ad un pubblico perché abbiamo fatto delle repliche in un posto molto particolare che poi è il ridotto del vascello però c'era una fruzione diversa perché il pubblico era veramente molto vicino a te e la disposizione anche nostra e della scenografia era diversa insomma l'esperienza teatrale ma noi verremo al Teatro Vittoria ad applaudirvi c'è un'ultima cosa che voglio dire lei Anna Anna Ferruzzo che ha detto sì questo vestito no ma stamattina sono andata a fare un provino e allora avevo il sotto dove ho cambiato ho fatto appena in tempo e quando ha detto sono andata a fare un provino aveva negli occhi l'entusiasmo dei 18 anni e questa è una cosa stupenda e questo ragazzo si emoziona ancora prima di entrare in scena me l'ha detto al trucco quello della pressione del sangue mi voleva mandare in scena 220 sai che ha detto scusa chiudo questo ricordo di Vincenzo con una battutina Vincenzo vide questo nostro amore all'inizio per farti capire con colpo solo come mi ha trattato a me e come ha trattato a lei la battuta che mi ha inseguito tutta la vita ma ha visto Anna ha guardato me ha riguardato Anna e ha fatto cos'è lei da parte tua un guizzo il guizzo è bellissimo capito ma ha distrutto a me per cui ogni volta che lo vedevo mi dicevo ecco il guizzo c'è il guizzo Massimo Wettmuller i signori Wettmuller Anna grazie grazie a te Massimo grazie a te complimenti a Paola ma si complimenti a Paola complimenti a voi meravigliosi avete fatto una bella presa qua con Paola tesoro Teatro Vittoria 7-17 marzo grazie allora grazie a te